Buongiorno e benvenuti nel primo video del 2024. In questo video io vi parlerò di uno dei due regali che mi hanno fatto a Natale. In particolar modo questo regalo l'ho ricevuto da mia cognata. Spero che le vostre feste siano state feste serene. Io finalmente ho praticamente tolto tutto, albero, tutto quanto, perché non ne potevo più sinceramente. E niente, perché ormai bisogna ricominciare tutto da capo. Vi voglio parlare di questo kit di Nabla che si chiama Viper Day & Night Lip Treatment Kit. Eccolo qua. Allora, per me è stata una scoperta incredibile. Vi faccio vedere se non c'è... Oggi la luce fa schifo perché veramente sta piovendo e non sapevo dove mettermi per far vedere bene questo kit. Allora, all'interno troviamo due elementi molto importanti. Il primo è una maschera, una lip mask di Nabla. Vi faccio vedere. Io lo tengo nel cofanetto perché è molto comodo, è molto ordinato. Allora, qui troviamo la lip mask che è da mettere, un trattamento che si può fare di giorno e di sera. Sicuramente di notte è molto meglio perché ammorbidisce tantissimo le labbra. All'interno troviamo tutta una serie di vitamine che adesso vi vado a leggere. Ce n'è tantissimo in questo vasetto di prodotto. Sono 15 ml di prodotto. Ma essendo in crema, quindi comunque in maschera, consente veramente di avere tantissimo prodotto. Poi all'interno troviamo questo che sembra un rossetto, sembra un rimmel. In realtà non è niente di tutto questo. Ma è un siero rimpolpante, cioè fa l'effetto praticamente di plumper, gonfiare un pochino le labbra. Ovviamente all'interno troviamo tutti ingredienti naturali, quindi vi faccio vedere immediatamente. All'interno troviamo questa specie di stick che è un po' come un rossetto. C'è una rotella che si gira, adesso poi vi faccio vedere, non vorrei far uscire tutto il prodotto. Il prodotto all'interno è trasparente e vi dico che cosa contiene. All'interno troviamo acido ialuronico, che è quello che ci consente di dare un po' più di vigore alle labbra. Poi troviamo l'olio di jojoba e troviamo anche questo nel lip mask. Invece nel lip plumper troviamo varie combinazioni, caffeina, ginger, mentolo, vitamina B3, sostanza che ovviamente dà quella, come dire, turgidità alle labbra. Quindi per quanto riguarda la lip mask, che la trovate da questa parte, troviamo anche qui l'acido ialuronico ed è molto molto grassa, molto idratante. E poi sopra, una volta che avete messo prima la maschera, sopra date un po' di questo siero rimpolpante. Allora vi faccio vedere subito. All'interno ovviamente c'è anche del peperoncino, perché come sapete il peperoncino ha questo potere, un pochino di così dare una sorta di infiammazione, tra virgolette, e fa un po' più gonfiare le labbra. Allora io stamattina mi sono truccato, ho dato giusto un po' di base così, ho truccato gli occhi, niente di che, perché aspettavo di fare il mio trattamento labbra. Allora, come vedete io ne ho già usato un pochino, ne prendo un po', questo vi dura veramente un'infinità, e lo spalmo, credì, sulle labbra. Come vedete io ho le labbra molto secche purtroppo, perché bevo anche poco. Comunque, se ne basta una goccia, non ne mettete troppo, perché sennò veramente non riuscite più a toglierlo. Allora, in questo modo lo spalmate, mentre vi truccate, vi preparate, eccetera, lo lasciate su in modo che le labbra inizino ad ammorbidirsi. Stessa cosa la potete fare di sera prima di andare a dormire, cioè vi fate tutto il vostro trattamento per il viso e aggiungete anche la maschera per le labbra. Quindi io adesso la tengo un pochino su in modo che si assorbe abbastanza. Ok? Io ho praticamente quasi assorbito il prodotto, vi ricordo comunque di metterne poco, di non metterne troppo, e vado adesso ad utilizzare la seconda parte del trattamento, che è il Lip Plumper. Allora, girando, uscirà il siero, vedete? Ecco che è uscito. Ecco. Anche di questo ne basta una piccola quantità. Io comunque lo metto. È molto trasparente. Poi magari ne metto ancora un pochino. e lo lascio agire. Allora, questo prodotto voi lo potete utilizzare sopra il rossetto che volete mettere. Naturalmente darà un effetto plump, ma naturalmente anche un effetto lucido. Quindi se avete anche una tinta labbra che è opaca, questo tipo di trattamento darà ancora più vigore alle vostre labbra e le renderà ancora più lucide. Quindi secondo me è un ottimo trattamento. Adesso lo lascio un po' agire perché ci vogliono alcuni minuti. Vi dice che diciamo questo tipo di effetto, che è un effetto plump, vi dura circa due ore. Quindi comunque up due ore di effetto. Testato clinicamente. Eccolo qua. Allora, io inizio già a sentire un po' di bruciore perché inizia un po' a bruciare, bruciando un po' le labbra, come tutti i sieri o tutti i rossetti a base di comunque queste sostanze che vanno un po' a gonfiare le labbra. Sicuramente se non mettete il rossetto, vi ritroverete, poi lì dipende dal vostro pigmento delle labbra, vi ritroverete un po' un colorito un po' più arrossato delle labbra. Quindi anche lì decidete che tipo di rossetto mettere sotto. Ma secondo me sta anche bene naturale, con un gloss magari trasparente. Quindi io vedo già un effetto. Guardate. Cioè io lo sto usando già da una settimana. Tutti i giorni. La sera no, perché me lo sto scordando. Ma devo assolutamente iniziare ad usarlo anche la sera. Vi posso dire che io vedo le mie labbra molto più gonfie, soprattutto intorno. Soprattutto intorno, vedete i bordi? Adesso stanno cambiando un po' colore, perché sento proprio bruciare tutte le labbra. E questo, diciamo, è l'effetto di questo trattamento, che secondo me io lo trovo veramente fantastico. Quindi questo è uno dei miei regali di Natale che ho ricevuto. E sono molto felice, perché mi piace tantissimo. E lo sto utilizzando tantissimo. Ve lo consiglio prima magari di fare, non so, un trattamento un po' più invasivo, come potrebbe essere il filler, che comunque sinceramente io vorrei tanto fare. Ora, finché le labbra, le mie labbra reggono ancora, bene, ma mi piacerebbe tantissimo. Vedete, ha cambiato colore. Cioè, sembrano rosa, in pratica. Mi piace tantissimo questo effetto. Quindi vi dicevo, piuttosto che appunto fare il filler, o magari chi ha già il filler, può utilizzare questo kit, avrà ancora un effetto più wow sulle labbra. E quindi niente, io intanto ero passata giusto per salutare, per fare giusto il video del 2000, il primo video del 2024. Ho scelto di farlo con un prodotto make-up, un prodotto labbra. E sapete che comunque io con i rossetti sono in fissa, cioè ho due milioni di rossetti e di tinte per le labbra. E niente, fatemi sapere nei commenti se avete già provato questo tipo di prodotto o se ne avete provati altri che magari sono ancora più rimpolpanti. e come sempre io ti invito a iscriverti al canale per non perderti neanche una novità e ti invio anche sulla mia pagina Instagram dove mi puoi trovare con la dolce casa di Bel. Io vi saluto, vi auguro una buona settimana e vi rimando al prossimo video. Ciao e buon anno! Ciao ciao! Ciao! Grazie a tutti.